E' una situazione davvero vergognosa, mi trovo nella città vecchia di Taranto, via Duomo 100, da tre settimane, guardate cosa si è aperto, si è aperta una voragine, è stata così chiusa alla meno peggio con del compensato, la solita transenna della polizia municipale e come si suol dire, chi si è visto si è visto. L'amministrazione comunale evidentemente se ne frega dei cittadini di Taranto e soprattutto se ne frega degli abitanti della città vecchia, perché se ci tenesse alla sicurezza degli abitanti di Taranto in generale, della città vecchia, provenerebbe, non si può lasciare una situazione del genere. Qui ci sono rischi che qualcuno, qualche bambino, possa andare a finire dentro, oltre ai vari rischi connessi appunto a tochi, insetti e quant'altro. Quando io vengo qui e vengo sollecitato da numerosissimi cittadini e vedo un baratro e l'amministrazione comunale che non interviene, che si sono degnati assurdamente di mettere quattro pezzi di legno e coprire, che poi ovviamente vengono scoperti e rimane così, io cosa devo dire? Caro Veluzzi, te ne devi andare da Taranto, tu e tutta la tua amministrazione, perché siete incapaci, siete degli incapaci politico-amministrativi. La vostra incapacità mette a rischio la sicurezza dei cittadini, via Duomo Cento. È questa la rinascita di Taranto? Guardate, cittadini, guardate. Questo sindaco dovrebbe sparire da Taranto, per il bene di Taranto. Si togliesse davanti, per cortesia, perché vogliamo vivere sicuri, vogliamo vivere bene. Non meritiamo questo. Gli abitanti della città vecchia non meritano questo scempio. Vai via, Veluzzi!